Nella splendida cornice della libreria Palmieri di Lecce abbiamo Vincenzo Ampolo e Marilena Cataldini, autori di Intondo per i Cudibi Edizioni. Perché Intondo? Ma Intondo perché l'azione scenica è proprio un cerchio, un cerchio magico in qualche modo. Come sottotitolo immagini appunto intraviste al femminile. Sono delle donne che man mano parlano della loro storia, la loro storia più profonda, più intima, quella della loro infanzia, della loro ferita profonda. E quindi è una storia di emozioni, di emozioni circolari in qualche modo. Marilena Cataldini, questo lavoro teatrale è solo per donne o c'è un ampio raggio d'azione? Ritengo che c'è un ampio raggio d'azione perché questo lavoro parla della relazione delle donne con il mondo. Ci sono anche figure, c'è anche una figura maschile che a un certo punto interviene all'interno del testo, seppure in maniera marginale. Ma proprio il rapporto con la realtà, con il mondo che coinvolge tutte queste donne fa sì che il lavoro sia complessivo, che abbia un respiro più ampio. Il progetto risale a? Al 2001, stiamo parlando di 16-17 anni fa, nel senso che in quel periodo ci fu uno degli incontri, degli incontri di terapia di gruppo e da quegli incontri nacquero poi dei materiali e infine, insieme all'aiuto di Marilena, è stato creato questo testo che noi speriamo che vada presto in scena, che diventi un testo teatrale vero e proprio. Il teatro, Marilena Cataldini, solo scrittura o terapia? C'è tutto, secondo me nel teatro c'è la terapia perché la fantasia che si mette in campo cura, la fantasia, il pensiero. Il pensiero può curare ferite e arricchire, quindi non un discorso ristretto, non una terminologia ristretta, ma un concetto ampio, vitale, perché senza teatro, senza creatività, certamente si muore.